Ieri sera, più per curiosità, non perché mi interessasse vedere quelle partite, mi sono guardato il trofeo team con Milan, Seltavigo e Sassuolo. E l'ho seguito attentamente, anche per dare un'occhiata ovviamente al Sassuolo e al Milan, anche se si tratta di calcio d'estate. Noi poi durante l'inverno focalizzeremo le nostre attenzioni sulla Serie B più che sulla Serie A. Però avevo qualcosa in particolare da guardare, oltre a Defrel, volevo effettivamente vedere Sensi all'opera in una squadra di Serie A. Beh, se devo dire la verità, i primi 20-25 minuti non mi sono piaciuti, però Di Francesco l'ha fatto giocare da mezz'ala avanzata, non è il suo ruolo. Poi quando è passato al 4-2-4, con Sensi davanti alla difesa, le cose sono nettamente cambiate. E sono nettamente cambiate anche quando Sensi ha giocato definitivamente davanti alla difesa contro il Milan, nella terza parte del trofeo 45-45-45. E ho detto, beh, veramente è un gran giocatore Stefano Sensi, confermato oggi dai quotidiani che l'hanno definito il migliore del Sassuolo. Grazie. Grazie.